Buongiorno, siamo qui. All'assessorato al bilancio di Bari, a tu per tu oggi, con l'assessore Alfonso Pisicchio, nonché vice sindaco di Bari. Ecco, io vorrei oggi confrontarla con i nostri cittadini per parlare del percorso di questo assessorato e di questa città. Lei ha scritto una lettera aperta ai cittadini qualche giorno fa. Ne vogliamo parlare? Sì, praticamente abbiamo cominciato a mettere ordine a un metodo di lavoro, perché io ritengo che i cittadini vadano rispettati in pieno. La volontà di creare all'inizio, prima ancora di sentire le idee della città, di contenuti, le condivisioni dei cittadini su delle idee, si sta parlando già di uomini, di persone che devono essere i prossimi candidati sulla nostra città. E mi sembra questo un metodo che non piace, perché io voglio conoscere e sapere quella persona, che contenuti c'ha, che idee c'ha. E voglio confrontarmi con questa gente. Quindi ritengo che si debba partire innanzitutto dalla visione di questa nostra città. E quindi la lettera aperta era proprio questo, questo senso. Che cosa vogliamo da questa città? Vogliamo dirlo? Ho iniziato a dare delle tracce su cui iniziare una discussione. Spero che il centro-sinistra, la coalizione centro-sinistra, ma spero che la città inizi a parlare di che cosa, che identità vuole avere, che il rafforzamento di alcuni segmenti di questa città vanno operati. Quindi io credo che sia utile buttare il cuore oltre l'ostacolo, come si suol dire. Cioè iniziare a discutere dei veri problemi di questa città. Quali sono i veri problemi di questa città? Ce ne saranno tanti. È una città complessa. Bari ha una dimensione di una grande città, seppur vive certe volte una dimensione ancora di piccola. Non ha i grossissimi problemi che c'è a Palermo o Napoli, per parlare delle città del sud. Ma comunque vive di una difficoltà che è anche figlia di un momento storico difficile. Gli enti locali stanno subendo tagli da parte dello Stato, quindi anche le amministrazioni locali hanno una difficoltà a reggere un impatto di primo mantenimento di supporto per la cittadinanza. Però io credo che ragionando, dando delle priorità, identificandoci in una dimensione anche più alta, oltre all'ordinaria, che poi sta diventando straordinaria amministrazione, noi possiamo tirar fuori questa città da un declino che, pur non voluto, può accadere. Lei che ha questa esperienza politica, quindi questa passione politica, cosa pensa del futuro di questa città? Cioè, pensa positivo, dato che i baresi sono dei cittadini così complessi e così intraprendenti. Lo sono ancora? Ma diciamo che l'animo dei cittadini baresi è un animo libero. Sono persone che hanno sempre avuto la capacità di tirarsi su quando ci sono le difficoltà. Io credo, e guardo in positivo, perché io credo che le intelligenze in questa città ci sono e ci sono anche le capacità di affrontare la negatività. Io penso che possiamo avere uno spirito positivo, dobbiamo avere uno spirito positivo. Credo che abbiamo sempre dimostrato, la città di Bari, anche in termini politici, di essere laboratorio. Quindi questo significa che ci sono sensibilità, ci sono intelligenze capaci di poter tirare fuori i progetti e anche capacità personali importanti. Quindi sono abbastanza ottimista su questo. I cittadini baresi, secondo lei, sono dei cittadini italiani o dei cittadini europei? È una bella domanda. Devo dire che noi, se vogliamo, abbiamo un detto, i baresi sono amanti dei forestieri, quindi voglio dire che siamo già allenati a una dimensione di un approccio globale. Tra l'altro noi qui abbiamo anche culti religiosi di più religioni che si vanno a incrociare. Quindi anche la sua morfologia, la sua mentalità levantina, Bari, ha nella sua DNA la capacità di essere cittadini già europei da diverso tempo. Quindi credo che siamo pronti per poter affrontare, siamo pronti per poter ragionare in una dimensione diversa rispetto a una cittadina chiusa che ha il timore di affrontare una globalità anche in termini non solo di etnia ma anche di geografia. Secondo la sua percezione, come rispondono i cittadini a questa amministrazione? Hanno risposto bene o sono positivi o sono scontenti nella maggioranza, ovviamente? Io posso soltanto dire da un punto di vista amministrativo. Credo che lo sforzo di questi dieci anni di amministrazione è stato quello di sollevare la città da un torpore che si era venuto a cadere in quel periodo. Diciamo che l'attività amministrativa, la capacità della precedente di questa amministrazione è stata quella di riuscire a mettere in piedi una serie di iniziative e anche di dare dei simboli di questa città, insomma la ricostruzione dei Petruzzelli per andare nel concreto è stata quella di una volontà forte di reagire a qualsiasi difficoltà che continua ad esserci diciamo nelle diatribe anche legate alle questioni giudiziarie. Però credo che questa amministrazione abbia dato il massimo impegno. Io credo che al di là adesso dei giudizi, se sono più o meno positivi, credo che una cosa, un giudizio reale il cittadino ha di questa amministrazione, che è un'amministrazione che si è impegnata fortemente ed è un'amministrazione che ha voluto fare della trasparenza la sua banca. Parliamo di lei adesso. Lei ha una passione per la politica, ma un'altra grande passione, lo vogliamo dire? Sì, diciamo che la mia vera passione è la politica, diciamo, perché poi essendo nato in una famiglia che ha fatto politica. Ha mangiato pane politica, come si dice. Politica, sì, sì. Ovviamente mi ha stimolato, mi ha fatto crescere in una dimensione di proiezione verso la gente. Quindi, diciamo, la passione è questa, di poter dare un contributo alla società per me è importante. Poter dare qualcosa di mio per gli altri è fondamentale. Ecco, questo è quello che i valori che mi hanno inculcato i miei genitori, mio padre, che è stato colui che ci ha messo dentro questa parte importante della nostra società. Ma il mio vero mestiere è l'insegnamento. Sono un docente dell'Accademia di Belle Arti, quindi, diciamo, mi piace. È un mestiere che faccio con passione anche. Soprattutto il contatto con gli studenti, col mondo giovanile, mi continua a stimolare sempre di più. Non è vero che il docente dà soltanto insegnamenti, anzi impara molto dalle giovani generazioni e credo che questo rapporto di simbiosi costante per uno che fa anche politica è importante. Bisogna tenersi al passo con i giovani. Qual è l'arte che preferisce? L'arte in genere è tutta bella. Per chi ha una sensibilità e chi è di questo settore sa bene. Io poi sono uno che nasce come grafico, come grafico pubblicitario, come arredatore. Mi piace molto l'arte moderna, l'arte contemporanea in modo particolare perché, insomma, è il frutto di un processo di evoluzione della società. È quella che di pari passo ha legato un linguaggio visivo con il linguaggio letterario. Quindi, diciamo, è l'immediatezza della nostra società attraverso, diciamo, una visione creativa. Immagino la pop art, immagino Andy Warhol o altri grandi artisti dell'epoca che ci hanno dato tanto. Come risponde Bari all'arte? L'arte piace ai baresi? L'arte piace. Devo dire che dove si sono realizzate il Comune di Bari ha tentato, sta tentando anche su spinta mia, personale, di mettere in piedi delle iniziative tese a mettere in moto un ragionamento sull'arte contemporanea. Insieme ad altri amici, al delegato del sindaco di Bari, proprio per l'arte contemporanea, abbiamo cercato di mettere in piedi su dei progetti e abbiamo visto che alcune mostre importanti che noi siamo riusciti a realizzare nel Teatro Margherita come contenitore, abbiamo visto grande attenzione dei cittadini baresi. Quindi, voglio dire, c'è attenzione, va coltivata e va soprattutto sviluppata ulteriormente. Cambiamo pagina adesso. Se potesse dire qualcosa ai cittadini baresi in questo momento, apertamente, che cosa gli direbbe? Io chiedo ai nostri concittadini di avere la volontà di collaborare perché senza la loro collaborazione questa città non può essere resa migliore perché ci possono essere gli impegni dei più bravi politici di questa città, ma senza la collaborazione del singolo cittadino questa città non può svilupparsi, non può diventare città educata perché ogni azione che noi facciamo dobbiamo sapere che viene sulla nostra testa. Quindi l'unico appello che io mi sento di fare è lavoriamo insieme perché è importante che questa città vada avanti e soltanto lavorando insieme può svilupparsi seriamente. Bene, chiudiamo qui a Tu per Tu. Io saluto i nostri ascoltatori dal sessorato al bilancio di Bari per la Gazzetta Meridionale. Ciao!